Il gruppo consigliare della Lega perde un altro consigliere, non uno qualunque, ma bensì una delle colonne storiche del partito. Patrizia Ovattoni, attuale vice commissario e in passato numero uno del carroccio a livello locale. Stamani ha formalizzato il suo ingresso nel gruppo del centro-destra formato da ex leghisti usciti un anno fa in aperto dissenso col partito. Ora si aggiunge anche Ovattoni già in rotta con il resto del gruppo dopo essere stata fatta fuori dal ruolo di capogruppo a favore del neo entrato Daniele Spada. La goccia che ha fatto traboccare il vaso in queste ultime ore è stata la decisione della Lega di mettere mano ai propri posti in commissione, indebolendo Ovattoni a favore di Spada e Curcio. La proposta è all'ordine del giorno del consiglio di domani, ma con l'uscita dal gruppo Ovattoni spariglia le carte e rende inutile quell'atto. Questa non è la Lega in cui mi riconosco, ha affermato Ovattoni, non è una decisione che prenda a cuore leggero, ma negli ultimi tempi si sono verificati troppi episodi che denotano un cambiamento radicale nelle politiche locali e la situazione nel gruppo è diventata insostenibile, la semplice convivenza con i consiglieri non è più sopportabile. Opposta alla versione dei fatti fornita dal capogruppo del carroccio Daniele Spada, già da tempo era figura estranea, se non addirittura contrapposta all'attività del gruppo Lega, non avendo partecipato a nessuna delle ultime riunioni. Abbiamo provato a ricomporre il suo avventino, ma ogni proposta di buonsenso, condivisa dal partito, è caduta nel vuoto. La Lega passa da sei consiglieri iniziali, sette se si conta Spada entrato recentemente, agli attuali due, mentre il gruppo del centrodestra ha oggi cinque membri e rafforza la sua posizione di gruppo più numeroso dell'opposizione.